Qui con me c'è Candida, questa galga di due anni che è Candida non solo nel nome ma anche nell'anima una creatura molto dolce che sta aspettando una famiglia per aprirsi definitivamente alla vita e mostrare quanto buona è e per assaporare una vita tranquilla senza maltrattamento, senza sfruttamento e soprattutto con tanto amore, Candida cerca casa in Italia e noi vogliamo tanto Dagli davvero, vai Grazie a tutti Grazie a tutti